www.tripp.it www.tripp.it dovrebbe essere qualcosa di popolaro giuvoli nooo che figata ho capito è tipo ci sta un gioco oddio è che fanno tutto da solo fanno tutto da solo ma che... ah no è qua oh vai 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 ok permette li fanno da soli fanno io che figata che figata senti quanto è gasato comunque raga watchdogs è ho capito è una cosa comunque spettacolare è figo comunque il tuo moltiplicatore aumenta ho letto l'invalzi però forse con i rinvalzi ah ok con i rinvalzi ho aumentato il moltiplicatore chissà che cos'è quel quel simboletto quella barretta che scorre che continua a scorrere ma guarda è la cosa perfetto o bene boh eh è gasatissimo è gasatissimo cioè proprio ah vai è questa la cosa difficile va che culo check point let's go vai qua 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 olè eh l'ho preso tutti i cerchetti dai raga vai dai telecamera qui sta olè no 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 abbassati yeh abbassati ok abbassati vai 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 sono gasatissimo più di lui penundici cosmico che ca... oh che figata germoglio completato moh scegli percorso oh proviamo un po' a decollo è figo cioè assomiglia a un gioco però non mi ricordo che... che gioco è mmm non lo so boh un qualcosa tipo per telefono così olè sta musica sta musica mi ricorda a... un po' tipo le noir c'è c'è tipo anni venti ma eh comunque che stavo dicendo c'è Watch Dogs è a parte si è vero ci stanno molti molti bug e roba varia però dai superando diciamo queste cose è comunque un gioco fatto molto bene cioè la mappa considerate che se non sbaglio così ho pensato da qualche parte la mappa di Watch Dogs è quattro volte quella di GTA 5 questo è tutto dire perché quella di GTA 5 è una cosa enorme poi non so se io sto urlando perché mi sono reso conto che nel primo video che ho fatto su Watch Dogs urlavo un botto perché c'evo le cuffie cioè sparate a palla pure adesso però vabbè e la cosa è che io mentre c'evo le cuffie sparate a palla riesco a sentire la mia voce quindi è questo il mio terrore che cioè semmai abbasso poi nell'editing abbasso il mio volume no però per sapere se noi nei momenti si urlo troppo comunque niente consiste in questo psichedelic figo poi è carino questa musichetta dai cerchiamo di finire questo raga questo qua e poi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo trip digitale comunque ragazzi vorrei precisare visto che ci sta ancora qualcuno che me lo scrive nei commenti io non farò il let's play perché comunque è un gioco che mi vorrei godere al massimo e porca puttana mi vorrei godere al massimo quindi ovviamente se dovessi registrare non lo so sono quei giochi che si puoi registrare però ce ne sono altre che magari un altro sono un po' godere di più quasi non mi credere come spiego io le cose perché non lo so questo va preso va preso va preso va preso vai vai si vai vai ole 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 vai ole dai ecco ok poi non ci eravamo ancora arrivati vai 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 gasatissimo allora stavo dicendo non farò let's play comunque farò molti video almeno adesso diciamo così nel nell'inizio per così dire adesso che è uscito ad esempio eh l'altro giorno mi avevano in mente di fare le le quelle tre quattro missioni eh esclusive playstation che sono dei contratti di qualche tipo però non li ho approvati perché appunto ho acquistito la mappa erano tipo quattro cinque però volendoli fare con voi poi ho beccato un checkpoint almeno raga l'ho beccato eh sì mi pare di sì eh sì sì perché la cosettina di scorrimento sta già ehm comunque poi i soldi io raga cioè io ho più o meno fa un culo tipo 600.000 cioè è una cosa assurda voi lo faccio vedere pazzesco a ritmo di musica barabarà poi non capisco l'arrivo sto ahhh questo qua probabilmente al video il più lungo è detto digitale perché magari farò qualche tale però mi sto divertendo veramente un botto perché perché c'è questa musette che ti trascina ti manda ti manda avanti questo dai dai la devo ma i vestiti ah ok no vai vai ecco qua lo facciamo scendere qua lo facciamo scendere no vaffanculo scrivete comunque nei commenti oltre al fatto se urlo no scrivetevi se vi piacciono questi rip qual è il vostro preferito comunque ce ne sarà un altro che sarà non l'ho scordato vabbè ce l'ha scritto prima comunque ragazzi dai se falliamo adesso ci salutiamo perché credo che stia durando fin troppo questo video ah daglie daglie olè guardate le minacce a Watch Dogs funzionano sempre vaffanculo vabbè pausa pausa svegliamoci c'è di percorso ci stanno solo questi due cioè pure qua ci stanno le musica spettacolo 17 ce ne stanno guardate 2 su 17 ok ci svegliamo ragazzi e io spero che quest'altro trip perché a me mi mette mentale però c'è tanto di commentare c'è tanto di digitale spero che questo trip digitale vi sia piaciuto ora vi faccio vedere i miei big money guardate olè no perché ah è vero lo spesi cazzo però se non sbaglio ho messo una foto su facebook che ce ne avevo ce ne avevo 600.000 e passa no comunque yeah qui niente ragazzi il video è altrimenti spero che vi sia piaciuto lasciate un commento passate ai social che trovate sempre in descrizione e noi ci vediamo prossimo bene ragazzi grazie